Lo facciamo introdurre dai suoi preferiti, i gemelli di Guidoio! Labiale, labiale, labiale! Ema, vieni qui con noi, ed Antonio Giuliani. Antonio, tu stai qua, Ema indossa la... Non siamo una grande squadra, aiutiamo! La coppia perfetta! Lì? L'articolo il! Ema, tu hai le cuffie, quindi non senti. Devi guardare il labiale di Antonio e capire che cosa dice. Quindi io, per facilitarti il compito, mi sono munito... No, va bene! Ora il problema è riuscire a salire. Non si faccia male. Bene, bene, bene. Metti pure le cuffie. Va bene, signor giudice. Sì. Viola, violini e violette. Viola, violini e violette. Fuori fa molto freddo. Sì. È uguale proprio, identica proprio. Fuori fa molto freddo. Sai che sta molto meglio con 20 centimetri in piedi? È vero, è vero. È vero, grazie. Posso andare a casa? Mi avvitate i piedi, è possibile? Vorrei andare a casa così, grazie. Allora, allora, tentiamo. Viola, violini e violette. Fuori? Fuori. Sì. Sì, fuori. Fuori. Sì. Viola. Piano, piano. Sì, piano. Viola. Aspetta, non ho capito il gioco. Cioè, devi farmi capire. Sì, sì, hai capito il gioco. Ma non mi stai facendo capire niente, amore. Ma tu guardi Stefano, devi guardare niente. Ma non è vero. Capisco che c'è una differenza. Amore, ma non mi stai facendo capire niente, dai. Allora, te lo faccio in francese, va bene? Allora. Te lo faccio tutto così, dai. Aspetta, ha chiuso una frase, una parola dott'amore. Amore, ma non mi stai facendo capire niente, dai. Piano. Boh, bo. Viola. Viola. Mi auguro che ti si possa slogare il gioco. Beh, non ci arrabbi. No, non mi arrabbi. Non ci inalberi. Sì. Devi guardare me. Come fai a seguire il lavoro? Prego. Prego. Viole. Fiore, fiore, fiore. No. Fiorellino. Viole, fiorellino. Può essere un fiore. Sì, può essere anche un fiore. Ma non state vedendo come lo stava facendo indovinare? Cioè, è impossibile. Ma non si sta impegnando. Ma non si sta impegnando. Ma non si sta impegnando. Hai detto, devi fare tipo... Mai era successo di un cazziatore. Non si sta impegnando. Iniziamo, viaggio, viaggio. Ok, vai, vai. Vi-o-le. Forli. 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 Sì, Forli. È romano. È una F. È una F almeno. No, una V. Una V. Vi-o-le. 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 Bene. È un'ora che lo dico, te l'ho detto. Ma dove l'hai detto? Scusate. Allora, viole, viole, piccola, violini e vi-o-le-te. Violette. Ah, violette, viole, finalmente, finalmente, Paolo Antoni. Alle cuffie? Alle cuffie. Lei è mai andata... È la prima volta, eh. È un po' che non va alle cuffie. Forse è proprio la prima volta. Venga qua, viaggio, certo. Ma a me non mi capita mai. Ma due maestri a confronto. Questo è il derby, è il classico. Questo è il derby classico. È il classico. C'è puzza se c'è calca. No? Ok. Dove c'è calca? C'è puzza. C'è puzza se c'è calca. Beh, così... La puoi ripetere? C'è puzza se c'è calca. C'è puzza? C'è puzza. Eh, bravo. C'è puzza... Se c'è calca. Di salsiccia. Ma qual è la puzza di salsiccia? Di salsiccia, ha detto salsiccia. Però, ha detto salsiccia. Hai detto salsiccia? No. Va bene. Va bene, ripetimela. Segua il labiale. Guardo il labiale. Va bene. Segua, non guarda. Non ho capito. Non fa niente. È meglio. C'è puzza. C'è puzza. Se c'è calca. C'è puzza. C'è puzza. C'è puzza e c'è calca. C'è puzza di sciacalla. Di sciacalla. Ma che? Che? C'è una sciacalla. Ma che? Si sta marcendo. Ma che schifo. Tragedia, dai. C'è puzza di sciacalla. Ma che sì? Ma che sì? Ma fai. Allora. C'è puzza. C'è puzza ed è gialla. C'è puzza ed è gialla. Ma come che ha colore? La puzza non ha un colore. C'è puzza. C'è puzza. C'è puzza, dai, 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 dai. C'è puzza. C'è puzza. C'è puzza. Di c'è, di c'è. C'è puzza. C'è. 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 La casa. La casa. La casa. No. C'è puzza. C'è puzza. C'è. C'è. No. C'è. C'è. C'è puzza. se c'è calca se c'è polla calca se c'è calca